Sappiamo che era una partita difficile, ma penso che la squadra ha saputo reagire bene nella partita e abbiamo vinto questi tre punti che sono importantissimi per il campionato. Il gol tuo di questa sera è un po' il simbolo anche di quello che ha detto Mourinho, perché i cambi danno sempre freschezza, i cambi danno la possibilità di ribaltarle le partite. Ti ha fatto molti complimenti perché tu sei uno di quelli che si allena meglio e uno di quelli che si fa sempre trovare pronto. Sì, è il nostro lavoro, penso che allenare bene è primordiale per dopo giocare bene anche nella partita. Io sto, come ho detto sempre, io sto qua per quando il mister mi fa entrare e intentarlo farlo meglio che posso farlo per aiutare la squadra e anche a me. Penso sia anche una bella sensazione segnare in questo stadio quasi tutto esaurito, una rimonta oggi è arrivata, ne servirà un'altra forse ancora più importante giovedì prossimo con ancora più tifosi. Sì, è stato bellissimo, è tanto che non segnava e quando cantano il tuo nome qua quando segna è bellissimo. Io do grazie ai tifosi per come aiutano loro nella partita e parlando di giovedì stiamo già pensando sulla partita giovedì, perché vogliamo andare in semifinale e dobbiamo vincere la sì o sì. Grazie.